Un giorno mia madre mi propone di fare, di intervistare delle persone che rappresentano la diversità per fare un film e io ho accettato volentieri. Bene, lo diffonderemo il film. Prima inizieremo con Roma, lo metteremo in tutti i cinema di Roma, poi inizieremo con le province. Vi presento il regista, Reinaldo Marcus Green. Abbiamo chiamato un grande regista italiano, Peppuccio Tornatore. Il noir ti racconto come sono andate le cose mentre accadono, quindi tu sai tutto. E uno degli elementi, dei punti di forza del racconto noir è il senso di colpa, il senso della sconfitta. Quasi sempre i personaggi sono trascinati a commettere delle azioni criminali non volendolo, ma anche questo spesso determina in loro un senso di colpa che li trasforma. E talvolta questo senso di colpa li porta a complicare ancora di più la tessitura drammatica della storia. Il film è stato fatto, come si è stato fatto, come si è stato fatto, come si è stato fatto. do the right thing we shot in one one neighborhood and you know listen a lot of a lot of things happen good and bad in Brooklyn the film takes place around a single event around a event of police brutality and how a community is affected by this video please È una espressione visuale per raccontare la Festa del Cinema di Roma, Lec e Moge.